Sia lodato Gesù Cristo avanti con Maria, carissimi amici di Radio Domina Nostra, buona e santa domenica a tutti voi oggi che è la prima domenica di Quaresima, la domenica delle tentazioni di Gesù nel deserto. Questo breve video va in onda per ricordarvi che questa sera alle 21.30 ci sarà la diretta su Radio Domina Nostra, continueremo il ciclo di Catechesi sulla passione del Signore. Grazie per le vostre perghiere, ma proprio mi arrivano, sento il vostro sostegno, il vostro aiuto e questo è molto bello. Prima però di chiudere volevo dirvi, cari amici, che la questione di un Papa eretico che si presenta molto forte ai nostri giorni è purtroppo una questione che non si può trattare come vedete, perché da quell'altra parte la falsa Chiesa ha deciso di demonizzare, sovietizzare, ghettizzare, lagherizzare quelli che non si omologano a questo pensiero, cioè al pensiero di un Papa chiaramente eretico. Uno prova a condurli sui contenuti e questi cosa fanno? Ti prendono e ti gettano nell'agonia mediatica cercando di farti passare per un prete matto, per un prete folle, poi c'è chi che ci casca. Ancora una volta io chiedo di intervenire sui contenuti, io chiedo che ci sia chi risponda alle domande legittime che quelli che facciamo, che rispondano a queste domande, che quelli che facciamo queste domande possiamo avere delle risposte. Ricordo allora un paio di cose molto importanti, anzitutto non è vero che un Papa gode dell'infallibilità solamente quando insegna ex catera, questo si sa, c'è una infallibilità ordinaria e questo è vero. E tuttavia non è possibile che l'autorità legittima, queste sono norme di diritto ecclesiastico, promulghi e imponga la Chiesa universale delle leggi contenenti degli errori nocive al bene delle anime. Perciò non è possibile che un autentico pontefice, vero vicario di Cristo, sia al tempo stesso scismatico, apostata, in rottura con la tradizione e possa continuare a essere chiamato romano pontefice. Questo non è possibile. E non è possibile per una ragione molto ovvia, perché l'eresia o è conclamata o è automaticamente dichiarata. Mi ricordo molto bene che il cardinale Burke, che sembra essere scomparso di scena, aveva detto che c'è una eresia che conduce alla deposizione in maniera automatica, depositus, non deponense, cioè non c'è bisogno che ci sia chi li dichiara eretico. La mia è una battaglia che io sto portando avanti nella verità, proprio perché Bergoglio per primo sa che voleva questo. Bisognava che il sinedrio neoprogressista raggiungesse il ministero petrino per distruggere per sempre lo spirito cattolico, ma hanno fatto i conti senza l'oste, continuano pure a demonizzare, continuano pure, chissà adesso cosa si inventeranno, distruggeranno piccola Nazareth, non lo so, mi metteranno in carcere o mi faranno fuori, magari nella maniera più elegante possibile, chissà che cos'altro si inventeranno e poi lì tutti quei siti a confermare queste tesi qua, che io sono matto, che non ci sono con la testa. Bergoglio ci spieghi se si può dare la comunione a pubblici peccatori. Ringrazio una figliola del Nord che oggi mi ha detto questa cosa, ci ha pregato tutta la notte, c'è un peccato pubblico. Bergoglio ci dica si può dare la comunione ai conviventi se dice sì è eretico, se dice no non lo è, ma non ha detto né sì né no, però fa dire sì attraverso i suoi. E lui è furbo, è furbo, crede di essere furbo, ma non ha fatto i conti con la Santa Vergine che protegge la Chiesa. Bergoglio, tu non sei per molti di noi, non sei più il Papa. All'inizio eravamo disposti a darti fiducia come giusto, perché da questa parte siamo tutti cattolici e apostolici romani. Sei tu che hai tradito le nostre attese e noi che ci diciamo cattolici non possiamo più riconoscerti come nostra guida, come nostra autorità morale e dottrinale, perché sei chiaramente eretico. Dal momento che come insegna, vorrei dire qui e concludo perché vorrei dirvi tante cose ma non posso, come insegna Pio XII in una famosa lettera, Mistici Corporis, Pio XII distingue, attenti bene, tra chi esce dalla Chiesa da se stesso tramite eresia, scisma o apostasia e chi ne è cacciato fuori dall'autorità, dunque diritto ecclesiastico tramite la scomunica. Ora, cosa dice Bergoglio a riguardo di questo? Ha chiarezza che lui da quando ha promulgato l'amoris Letizia senza precisare la risposta in dubbia dei quattro cardinali? Da se stesso, dice Pio XII, si tira fuori dalla comunione ecclesiale. Quindi quelli che come me, a dire il vero non so dove siano quelli come me, comunque quello che come il sottoscritto dice a Bergoglio chiarisci o altrimenti per noi non sei il Papa, intervieni sui contenuti, abbiamo tutto il dovere di farlo, ci dispiace vedere che ci sono poteri trasversali che devono tenere questa idolatria di Bergoglio e perciò se c'è un Don Minutella che senza paura, perché io non ho paura, non ho paura, c'è la Madonna con me qualunque cosa accada, la mia vita è nelle braccia della mia madre, regina e signora Maria. Chi tocca a me tocca la Santa Vergine, amici cari. Questo sia chiaro per i nemici. Devono dimostrarmi dove sono i miei errori, devono dirmi dove io sono eretico. Fino anche a ieri il povero vescovo di Palermo, il povero vescovo di Palermo, l'orefice, somiglia insieme ad altri vescovi sparsi per l'Italia di matrice bergogliana, ai gerarchi del regime nazista, capito? Questi non discutono, questi non dialogano, questi solo sanno intimare, intimare coloro che, e purtroppo sono tanti, poi si tirano indietro perché hanno paura di perdere chissà che cosa. Ecco, la cosa che io vorrei dire è molto importante, il vescovo di Palermo dice che Radio Domina Nostra va contro la dottrina cattolica e sono proprio impazziti, è certo, però tutto sommato hanno ragione perché si è creata un'altra dottrina parallela che è quella di Bergoglio che farà la fine che farà. Vorrei poi ricordare che San Luigi Maria Grignoda Monforta, a proposito degli apostoli degli ultimi tempi, dice che saranno come saette di fuoco, non si possano controllare, non si può prevedere dove il fulmine arriva. Ecco, i fulmini di Maria, il fulmini di Maria, vi ricordate quel fulmine sulla Basilica di San Pietro quando Benedetto XVI ha deciso di dimettersi ma Dio non ha accolto queste dimissioni? Ecco, quel fulmine lì è il fulmine di Maria, è la Madonna che lancia i suoi fulmini attraverso i suoi apostoli e Monforte dice chi perseguita gli apostoli di Maria degli ultimi tempi, chi li maledice, maledice Dio stesso, maledice la Madonna. Bergoglio, carissimi amici cari, non ha risposto se non attraverso i vescovi argentini, dicendo che è giusta l'interpretazione dei vescovi argentini che dicono che si può dare la comunione di divorziati e risposati. Dunque è eretico. Ci vada pure dietro tutta la Chiesa ex-cattolica, a me non importa, io ho deciso di rimanere cattolico fino in fondo e quindi non riconosco. Oggi che è la prima domenica di Quaresima, lo dico dopo essermi rialzato dalle macerie dei programmi televisivi che cercano in tutti i modi di demonizzarmi, di ghettizzarmi, vogliono creare il ghetto dei cattolici. Forse ci riusciranno o forse no, è tutto nelle mani di Dio perché come dice Caterina Emmerich, mentre costruivano la falsa Chiesa Dio aveva in mente altri progetti. Va bene, può bastare qui questo perché io avrei voluto dirlo stasera questa storia a scanso di equiscio, perché ci sono amici dell'ultima ora o della prima ora che poi mi invitano, ma non dire che Bergoglio è eretico, cerca di startene tranquillo e non insistere perché ti devi continuare a far del male così per il tutto. Questo dimostra due consapevolezze. La prima consapevolezza è che si ha paura di Bergoglio, ma io non ho paura di lui, non ho paura di lui perché con me c'è la Santa Vergine, so che lui vuole distruggere la Chiesa Cattolica è messo lì e da anni che circola in certi ambienti e forse verrà l'ora in cui dirò certe cose che mi sono state rivelate e allora vediamo poi Bergoglio come risponde perché sono cose riservate, nascoste che nessuno sa, ma che il cielo conosce e che può decidere di rivelare a chi vuole. E poi un'altra cosa che volevo dire è che questi tali che mi dicono non lasci a stare, non parlare male di Bergoglio, sono i primi che poi a camere spente, a circuiti chiusi mi dicono sì ma è eretico, sì ma è eretico. Questa sera parlerò di San Pietro che rinnega Gesù non perché manca di fede ma per paura. Ecco purtroppo oggi tanti miei confratelli fanno così, rinnegano la verità cattolica e la verità della fede non per mancanza di fede ma perché hanno paura e questa paura è opera di Satana, il diavolo che vuole proprio cercare di suggerire la Chiesa Cattolica, è l'ultimo attacco figlioli cari sferrato alla Chiesa Cattolica, perciò è l'ultimo scontro, non tra Bergoglio e Domi Nutella, perché dico questo? Perché Bergoglio ha detto che per igiene mentale, che bei discorsi pieni di paternità, guardate veramente c'è una paternità universale in Bergoglio, tutti quelli che non la pensano come lui sono tutti matti, tutti folli, tutti da internare, proprio nel più classico dei metodi sovietici, il Soviet, è tornato il Soviet, solo che il Soviet non ha più falce martello, ha le due chiavi di San Pietro, c'è il Soviet vaticano amici cari, c'è il Soviet vaticano, ecco, e stavo dicendo che lui pensa così di governare, pilotare le menti, perché dice io per igiene mentale non ascolto questi siti che parlano di resistenza, abbiate pazienza, chi è che ha parlato per primo di resistenza cattolica, ma è chiaro che è sottoscritto, ma la battaglia non è tra lui e me, lui ha persino 81 anni, la vita degli uomini è 70, dice il Salmo, 80 per i più robusti, ma insomma prima o poi termina per lui, per me, per lui in un modo, per me in un altro, ognuno si schiera dove vuole, nel mattutino del Betusordo oggi si leggeva di San Paolo ai Corinti che dice ai Corinti che il legame c'è tra Cristo e Bieliar, tra la luce e le tenebre, non esistono vie intermedie, o si è di Cristo o si è del diavolo, o si è del Vangelo o si è del mondo, avete capito? E ognuno in coscienza sa come stanno le cose, capite amici cari? Ecco, passerà lui, passerò io, ma questo scontro, al di là di quelli che ci siamo in questo momento, in qualunque modo finisca per ognuno di noi, sulle nostre ossa, sulle nostre tombe, assisteremo figlioli cari allo scontro finale tra la donna vestita di sole e il dragone infernale, sappiamo già come finisce, la Madonna ha detto alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Ecco, sembrerebbe sia l'unico che parla, le prendo da questa parte, dalla falsa chiesa, da quest'altra parte mi boicottano, amici dell'ultima ora che se ne vanno, resto sempre più solo, sono lieto di esserlo, mi lasciano pure tutti solo, continuerò finché ho fiato in gola a dire come stanno le cose, perché io non sono solo, con me c'è la Santa Vergine Maria, lei ha promesso che mi proteggerà e mi aiuterà in questa battaglia, lei mi dice esattamente come stanno le cose, stiano tutti in guardia perché la Madonna ha promesso il trionfo del suo cuore immacolato. Buona domenica a tutti, a questa sera, se non vi annoiate con la catechesi sulla passione del Signore, cenate leggeri così non vi addormentate, mentre stasera farò la catechesi, del resto siamo anche in quaresima e spero che ognuno abbia fatto delle rinunce, io ho fatto anche le mie e le offro oggi particolarmente per tutti i miei nemici che mi odiano, che mi vogliono morto, che mi vorrebbero far fuori, che mi denigrano, quando io sono un po' giù mi diverto ad aprire questi siti, questi profili e a leggere quello che scrivono, veramente c'è una fragranza evangelica che è qualcosa di splendido e di spettacolare. A stasera amici cari, fatela passare questa notizia, come vedete la RAI adesso ha taciuto, avevano detto che avrebbero approfondito, invece questo non è accaduto, io sono qui disponibile a intervenire in qualunque momento sui contenuti, perciò vi anticipo già da adesso che a Dio piacendo a marzo, verso metà marzo, organizzerò a Roma in un hotel, in una hall di hotel l'incontro con tutti quelli che vogliono venire, quelli che siete del nord, non fate molta fatica perché basta prendere il treno ad alta velocità, ci si trova a Roma e vi farò sapere dove, è molto importante vederci, è molto importante incontrarci, poi meglio ancora se la RAI con i metodi tipici del mondo comunista viene con le telecamere nascoste, questa volta siamo lì, pronti a far entrare chiunque, così vengono, ascoltano e poi anziché intervenire sui contenuti, continueranno a dire che Don Minutella batte cassa, che Don Minutella è eretico, Don Minutella è clandestino, Don Minutella ha costruito una realtà abusiva, Don Minutella qui, Don Minutella lì, si intervenga sui contenuti e allora poi vediamo chi è che ha ragione. Bene carissimi, l'inganno mai è svelato, si tratta di scegliere da quale parte vogliamo stare e che ognuno metta a disposizione se stesso per questo bel progetto della Madonna, alla fine ha detto la Santa Vergine, il mio cuore immacolato trionferà. A questa sera e avanti con Maria.